Sono Vanni Ruggeri, presidente del Consiglio Comunale di Magione, con delega alla cultura, organizzatore del Festival delle Corrispondenze, un evento giunto quest'anno alla settima edizione che si svolge nel borgo Lacustre di Monte del Lago. L'evento nasce sette anni fa intorno al premio letterario Vittoriano Norpompili, giunto invece quest'anno alla ventesima edizione con l'obiettivo di valorizzare la scrittura epistolare del passato e del presente, dal manoscritto al digitale, con un format unico in Italia, con conferenze, convegni, giornate di studio ma anche momenti teatrali, musicali, presentazioni di libri, laboratori didattici per i bambini. La lettera sembra un strumento comunicativo relegato al passato degli archivi polverosi e invece il nostro Festival si incarica proprio di continuare a portare avanti questo straordinario mezzo di comunicazione che ha fatto la storia della comunicazione del passato. Tutte le idee hanno circolato nei secoli precedenti attraverso la lettera. La lettera era il lubrificante fondamentale delle emozioni umane, metteva in contatto persone lontane, permetteva di scambiare opinioni, idee, punti di vista eccetera. Il Festival quest'anno come tutti gli anni ha un tema particolare, un tema monografico che quest'anno è di stringente attualità, si parla di censura e autocensura nella comunicazione pistolare con un'attenzione molto marcata sui temi di stringente attualità, fake news, bufale, strumenti distorti di comunicazione e social. Un altro grande momento del Festival è legato ad un anniversario che quest'anno ricorre, un anniversario di grande rilevanza per il nostro calendario civile, i 40 anni dal rapimento e dalla morte di Aldo Moro. In collaborazione con l'archivio Flamigni di Roma abbiamo organizzato una mostra evento che porterà a Monte del Lago una documentazione di straordinario interesse legata al rapimento e poi alla morte dello statista. Il carteggio di solidarietà, un numero sterminato di lettere che da tutta Italia giunsero dal giorno del rapimento alla famiglia per testimoniare vicinanza, affetto, cordoglio ma anche paura, stima nei confronti di Aldo Moro e vicinanza alla famiglia. È un'Italia che scrive e che mette su carta il proprio turbamento legato a questo evento storico e che non si esaurisce nel breve circuito emotivo dell'evento ma prosegue fino al 2008. Quindi 30 anni di lettere che da tutto il mondo giungono alla famiglia Moro testimoniando appunto l'importanza e l'eco che questo tragico evento ha avuto non solo per il nostro paese. Documenti originali appartenuti allo statista, fotografie inedite in una mostra che promette di insomma lasciare il segno al visitatore. Un altro grande appuntamento vede protagonista il direttore dell'Espresso Marco Damilano che chiuderà il festival con il suo reading un atomo di verità dedicato anche questo alla figura di Aldo Moro. Altri appuntamenti importanti sono legati appunto alla comunicazione come la presentazione del libro di Savero Tommasi Siate ribelli, praticate gentilezza. Il convegno organizzato insieme all'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ISUC su censura e autocensura dal Novecento ad oggi con un particolare focus riservato alla figura di Aldo Capitini e infine sempre nella giornata di domenica la premiazione del premio letterario Vittoria Ganor Pompili giunto quest'anno alla ventesima edizione. Il premio è riservato nella prima sezione ai carteggi editi di eminenti personaggi del panorama politico e culturale italiano. Nella seconda sezione invece si sollecita la scrittura epistolare di oggi proponendo a chi si cimenta nella lettera un tema tratto dalle lettere di Vittoria Ganor Pompili che è un po' il nome tutelare e ispiratore del festival che si svolge a Monte del Lago proprio perché a Monte del Lago e nella villa che ospitò Vittoria Ganor negli ultimi dieci anni della sua vita partì una fittissima rete di corrispondenza in grado di legare la sua figura al panorama politico culturale e mondano della belle époque del Trasimeno e non solo. Un appuntamento destinato a tutti rivolto dai piccoli ai grandi che è allo stesso tempo di profonda ricerca e di alta divulgazione ma anche fruibile dal vasto pubblico. Potete trovare tutto il programma e un approfondimento su ogni singolo evento sul nostro sito internet www.festivaldelecorrispondenze.it o sui nostri canali social.